Iniziamo la nostra avventura in Euro Cup con qualche acciacco ma con grande motivazione e voglia di avere una partecipazione significativa. Chiaramente il nostro obiettivo è di arrivare fino in fondo, vogliamo essere comunque intelligentemente umili e rispettare e conoscere la forza dei nostri avversari. Cominciando dal primissimo che sicuramente sarà un scoglio molto duro da superare, sappiamo benissimo che in questo momento molte volte giocare fuori casa con una situazione diversa di norme Covid, di affluenza, può essere diverso che giocare in casa. Quindi dobbiamo pensare esclusivamente a quello che succede in campo, essere concentrati sul nostro piano partita, cercare di allo stesso tempo avere una visione a medio e lungo termine. E' chiaro che ogni partita è importante, però allo stesso modo stiamo parlando di una regular season di 18 partite nel corso delle quali molte cose possono succedere. Quindi voglio di far bene e allo stesso tempo con l'idea che siamo comunque ancora in una fase di crescita, una fase in cui ci sono diverse cose da migliorare, da far con più continuità soprattutto e speriamo che sia un'occasione utile per poterlo fare.